Ciao a tutti, nel video di oggi andremo a fare uno scopriamo le creazioni in resina a tema tavolozze. Questo stampo l'ho acquistato tempo fa da Giacreation, non so se è ancora disponibile, comunque nel caso vi lascio i link in descrizione per acquistarlo. Molte delle tavolozze sono state disegnate da Angenia Creation e a me piace molto come stampo e niente. Ci ho realizzato qualcosa, ho cercato di fare tutte creazioni diverse e andremo a scoprirle insieme. Ci sono degli scartini, quindi io inizierei dagli scartini. Questo stampo che già vi ho fatto vedere tante volte, mi piace colarci gli scartini perché con poche gocce esce comunque qualcosa di carino e con queste farfalline di solito abbellisco delle basi cammeo o comunque le inserisco altrove. Questa è la prima, davvero microba, eccola qui, poi abbiamo la seconda con l'arancio, eccola qui, e infine questa che ho fatto con vari avanzi ed è venuta così, quindi argentata e celeste. Poi qui andrò a rifilare, vedete questi dettagli, li colorerò non so ancora con quale colore, comunque ve la mostrerò poi alla fine. Altro scartino, questo stampo che ho fatto io, si vede che è uno stampo handmade e c'è questa zampetta con questo giallo e questo verde, carina, molto semplice. E poi c'è questo joystick che ho fatto con il celeste e con il blu. È venuto bene, provo a mettervelo meglio a fuoco. Eccolo qui, carino, sono davvero cose semplici, però come scartini vanno bene. Iniziamo dalle tavolozze, allora, abbinate al bracciale che vi ho fatto vedere la volta scorsa, mi è piaciuto il risultato e quindi ho provato a ricreare più o meno la stessa cosa in queste due tavolozze, per farci, non lo so, o degli orecchini o dei ciondoli. E vediamo come sono venute, ve le tiro fuori entrambe. Questo è lo stampino, è semplice, quindi non ha delle fantasie impresse. Come già vedete dallo sfondo ho inglobato delle conchiglie e il risultato è questo qui. Sono le solite conchiglie che vi ho mostrato anche nell'altro video. Le ho trovate in spiaggia a Procida e le ho inglobate in queste creazioni. Qui ho voluto provare a fare l'effetto spiaggia e mare. Vedete c'è questo colorante color sabbia e poi lo sfondo in alto con questo celeste trasparente. E niente, spero che vi piacciano, sono carine secondo me. Eccole qui, le prime due tavolozze. Poi, tavolozze che mi sono venute male e che ho dovuto un attimo recuperare. Mi era caduto del pigmento e per non buttare ormai quello che già si era creato, ho provato a fare qualcosa con il pigmento. Non so come siano venute. Eccole qua, niente di emozionante. Ci sono tre pigmenti differenti. Magari proverò a disegnarci qualcosa sopra o, non lo so, ad utilizzarle in qualche modo. E niente, mi inventerò qualcosa. Queste sono niente di emozionante. Molto semplici. Poi, altre tavolozze piccole. Ci sono queste due per orecchini al lobo. Queste le ho cercate di fare in maniera particolare. E ho inglobato altre creazioni in resina all'interno. Vedete? Eccole qua. All'interno ci ho inglobato queste creazioni in resina a forma di pesci rossi. E secondo me il risultato è molto carino. Ho fatto un primo strato trasparente in cui ho inglobato la creazione. Poi ho fatto un altro strato con questo pigmento celeste trasparente. E poi un piccolissimo strato bianco per rendere la creazione non trasparente. E devo dire che il risultato mi piace molto. Queste secondo me sono venute bene. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vedete? Questa è quella con il pesciolino e questa è quella con le conchiglie. Poi, iniziamo a scoprire le tavolozze grandi. Iniziamo da questa che è trasparente, quindi già avete visto un po' com'è. E richiama gli orecchini al lobo che abbiamo appena scoperto. Eccola qui. La volta scorsa questa delle carpe coil l'avevo fatta con un celeste pastello. Ora l'ho fatta trasparente e all'interno ci ho inglobato tutti questi pesciolini, sempre creazioni in resina. Due col rosso, due col bronzo e due col oro. E poi qui andrò a dipingere le carpe, vedete, la fantasia, con gli stessi colori che ho inglobato. Quindi rosse, oro e nere, penso. E niente, ve la mostrerò poi al termine come è venuta. Diciamo che così la base mi piace. Poi, passiamo alla seconda, che è questa qui verde acqua. Ok, questo è lo stampo con la lunamotto. Sperando di riuscire a farvelo vedere. Ecco, vedete? Eccolo qui. E niente, andrò a colorare i dettagli, non so ancora con quale colore. E ve la mostrerò terminata alla fine. Comunque anche questa è molto carina. Poi, terza tavolozza. E' questa qui, con l'occhio, che ha disegnato Angenia. Qui avevo spennellato un pigmento sul celeste. E poi ho colato, ho fatto una colata col nero. E niente, questo è il risultato. Molto dark, però mi piace. Penso che i dettagli li andrò a fare con l'argento. E ve la mostrerò poi terminata. Qui si vede bene già adesso tutta la fantasia disegnata. Però comunque ci andrò a passare un pigmento. Poi, quarta tavolozza. Questa col giallo. Che è la tavolozza, quella semplice. Vedete, non ha nessuna fantasia all'interno. Mentre le altre, eccole qui, non ve le avevo mostrate prima. Hanno le fantasie che abbiamo visto. Allora, questa l'ho realizzata in questo modo. Ci ho inglobato questa farfalla. Che è uno sticker che ho preso da sempre già creation. E questi due fiorilini secchi. E devo dire, il risultato è carino. Quindi ho fatto il primo strato trasparente e ho inglobato le creazioni. E poi un secondo strato con questo giallo tenue. E niente. Eccola qui, è carina. Poi, ho cercato di farle in modo diverso rispetto allo scopriamo della volta scorsa. E fatemi sapere se il video vi sta piacendo. Mettete un like se volete supportare il canale. E iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Poi, passiamo all'altra tavolozza che ho fatto con questo celeste scuro. Ed è questa qui. Vedete? Con la luna e le nuvole. E niente. Qui i dettagli poi li andrò a colorare. Non so ancora come. Ve la mostrerò sempre alla fine. Poi, altra tavolozza è questa qui. È un po' complicato da gestire questo stampo. Però ce la facciamo. È questa con l'edera. Che ho fatto molto particolare. Non so come sia venuta. Vediamo. Oddio. È un po' un pugno nell'occhio. Però sì, il senso era questo. Ho inglobato l'Angelina Film sul retro. E inizialmente ho fatto un primo strato trasparente. Ho messo questo sticker con questa farfalla. Quando lo strato si stava quasi per solidificare. Ho aggiunto l'Angelina Film. E ha creato questo effetto. Molto particolare. Diciamo è un po' trash come creazione. Però è carina. Qua poi andrò a fare i dettagli dell'edera. Non so con quale colore. E niente. Ve la mostrerò poi terminata. È molto particolare. Niente. Speriamo che piaccia. È diversa dalle altre che avevo realizzato. Ve le faccio vedere. Questa è quella tenue. E questa invece è quella molto vistosa. Poi. Altra creazione. Con questo celeste. Non mi ricordo qui cosa ho fatto e cosa c'era. Ok. C'era il paesaggio. Questo con i fiori. Che la volta scorsa avevo fatto col trasparente. Questa volta ho provato a farlo un po' più particolare. E ho inserito. Ho inglobato. Questa farfalla. E i dettagli li andrò a fare. Non so ancora con quale colore. Ve la mostrerò poi terminata. Comunque semplice. Ma carina. Queste sono le tre farfalle che avevo inglobato. Spero che vi stiano piacendo. Poi. Ultime quattro. Iniziamo da questa. Che dovrebbe essere. I girasoli di Van Gogh. Se non sbaglio. Vediamo. Sì. Sono i girasoli di Van Gogh. E questa è la creazione. Che poi andrò a decorare. Ve la mostrerò terminata. Vedete qui i dettagli dei girasoli. Incisi. E niente. Poi la colorerò insieme. Ve la mostrerò. La volta scorsa l'avevo fatta gialla. E quindi giallo su giallo. Non risaltava tanto. E questa volta l'ho fatta con questi colori un po' più scuri. Sperando che dia maggiore risalto poi ai girasoli. Vedete eccola qui. Poi. Frida Kahlo. L'ho fatta con questo rosa perlato. Anche qui per lo stesso motivo dei girasoli. La volta scorsa l'avevo fatta arancione. E i colori poi non risaltavano tanto. Questa volta l'ho fatta con questo rosa tenue. Vedete questo è il disegno sulla creazione. Che andrò a dipingere dopo. E ve la mostrerò poi terminata. Eccola qui. E ultime due creazioni ci sono. L'urlo. E la notte stellata. Iniziamo da la notte stellata. Questa volta ho spennellato un pigmento. Per la notte stellata. Vedete meno. La volta scorsa era traslucida. Questa volta è un colore pieno. E molto scuro. E andrò a dipingere tutti i dettagli. E ve la mostrerò terminata. Eccola qui. E infine c'è l'urlo di munca. Eccolo qui. Che l'ho fatto con questo blu molto scuro. Tendente al nero. E niente. Anche questa la andrò a dipingere. Ve la mostrerò terminata. A dopo. Eccoci. Per voi sono passati pochi secondi. Ma per me è passato davvero tanto tempo. Ci ho messo come al solito un sacco per dipingere tutte queste tavolozze. E niente. Iniziamo dalle più semplici. Che sono queste a tema estivo. Dove ho dipinto soltanto il centrale della tavolozza. E queste verranno abbinate con il bracciale che abbiamo visto nello scorso. Scopriamo le creazioni resina. Vedete. E niente. Spero che vi piaccia questo abbinamento. Fatemelo sapere nei commenti. Poi. Altre cose semplici. Che sono gli scartini. Sono andato a decorare anche le farfalline. Vedete. Ho fatto i dettagli sull'arancione col bianco. E sull'argentate con il celeste. E niente. Poi le userò per qualcosa. Non so ancora cosa. Vedremo. Poi. Ho provato a recuperare queste tavolozze. Io non sono un pittore. Però ho provato a fare questo paesaggio dipinto su queste tavolozze. Una barca con la luna, il mare, il riflesso della luna e una specie di scoglio. E niente. Niente di che. Ci ho provato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Eccole qui. Poi. Altra tavolozza. Questa con le carpe coi. Dove avevo inglobato dei pesci rossi fatti in resina. Vedete sul retro si vedono meglio ora. Ho fatto il bordo col celeste. Poi le carpe le ho colorate con l'oro e con il rosso. E poi le ninfee con il bianco e il verde. Questa è la prima tavolozza grande. Poi c'è l'urlo di Munch. Eccolo qui. Ho fatto il bordo con il blu scuro. E i dettagli con i vari colori. Eccola qui. Fatemi sapere poi se vi piacciono. Questa è molto semplice. Avevo usato questo pigmento chameleon. E ho fatto i dettagli delle nuvole della luna col bianco. E i bordi della tavolozza con il celeste. Semplice ma carina. Poi luna mott. Anche questa semplice. Ho fatto i dettagli tutti col nero. E niente. E' carina. Eccola qui. Poi. Questo con l'occhio. Ho fatto i dettagli con il bianco. E avevo utilizzato questo pigmento cangiante. E' carina. Eccola qui. Poi. Quella un po' trash. Della tavolozza dove avevo inglobato la farfalla. Avevo messo l'angelina film. Ho fatto i dettagli con questo giallo tenue. E questo qui il colore. E il light yellow della model color. E' carina. Mi piace come è venuta. Vi dirò è una delle mie preferite. Poi. Semplice. Questa come al certo non so come fare i fiori. E per abbinarli alla farfalla le ho fatti con il rosa. Eccola qui. Alta molto semplice. Poi vabbè. Quella l'abbiamo già vista. Non l'ho decorata. Poi c'è la notte stellata di Van Gogh. Eccola qui. Bella. Poi c'è Frida Kahlo. Che secondo me è venuta meglio della volta scorsa. Gli dettagli si vedono meglio. Ho fatto metà a bordo col verde e metà con l'arancio. Il vestito con l'arancio. Le foglie vabbè con il verde. La corona di rose con il rosso. Il gatto con il nero e la scimmia con il marrone. E niente. Carina. Secondo me sto migliorando. Non mi entusiasma ancora al massimo. Però secondo me ci siamo quasi. E poi la mia preferita di questo scopriamo. E i girasoli di Van Gogh. Secondo me questa volta mi è venuta bene. E il contrasto con lo sfondo rende. Fatemi sapere cosa ne pensate. E diciamo questa e quella trash sono le mie creazioni preferite di questo scopriamo. Mi piacciono molto. Nei commenti ditemi qual è la vostra tavolozza preferita di questo scopriamo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!